Fin da giovane, Livingstone nutriva una passione per l'esplorazione e la scoperta. La curiosità lo spingeva a esplorare nuovi territori e a comprendere le culture e le geografie sconosciute. Missione medica e religiosa, inizialmente, Livingstone era un medico e un missionario. La sua fede cristiana lo motivò a portare cure mediche e il messaggio evangelico alle popolazioni dell'Africa. Questo lo portò a viaggiare attraverso il continente, esplorando e cercando di migliorare la vita delle persone. Lotta contro la schiavitù Durante le sue spedizioni, Livingstone fu testimone degli orrori della tratta degli schiavi. Questa esperienza lo spinse a combattere attivamente contro la schiavitù e a cercare di apportare cambiamenti positivi. David Livingstone, un nome che evoca avventure, esplorazioni e una dedizione senza pari alla causa umanitaria. Nato il 19 marzo 1813 nel villaggio di Blantire, nella regione scozzese dell'Anarchshire del sud, Livingstone ha lasciato un'impronta indelebile nella storia come medico, missionario ed esploratore dell'età vittoriana la vita di David Livingstone. I primi passi, fin da giovane, Livingstone dimostrò una sete insaziabile di conoscenza. Dopo aver lavorato in un cotonificio, riuscì a frequentare la scuola e imparò il latino. Con determinazione, si iscrisse all'Università di Glasgow per studiare medicina. Tuttavia, la sua chiamata era più grande, voleva essere un missionario. Nel 1841, giunse a Città del Capo, ora in Sudafrica, con l'obiettivo di convertire i popoli africani e scoprire la sorgente del Nilo Bianco. Esplorazioni audaci, Livingstone è famoso per le sue spedizioni attraverso l'Africa centrale. Durante questi viaggi, esplorò ampie aree del continente, mappando nuove terre, scoprendo culture e cercando rotte commerciali. Nel periodo 1852-56, lungo il corso del fiume Zambesi, scoprì le cascate Vittoria, che amò così in onore dell'allora regina d'Inghilterra. Fu uno dei primi europei a compiere un viaggio transcontinentale attraverso l'Africa. Lotta contro la schiavitù, durante le sue spedizioni, Livingstone cercò di aprire nuove vie commerciali attraverso l'Africa. Le sue esplorazioni contribuirono a mappare nuove terre e a scoprire culture diverse. Lago Malawi, Livingstone fu uno dei primi europei a vedere il lago Malawi, che si trova nell'attuale Malawi. Il lago è uno dei più grandi e profondi dell'Africa e ha avuto un impatto significativo sulla geografia e sulla vita delle persone nella regione. Livingstone si impegnò nella lotta contro la schiavitù. La sua determinazione nel fronteggiare le difficoltà e gli ostacoli durante le esplorazioni lo rese una figura, leggendaria nel mondo dell'esplorazione e un'icona del romanticismo vittoriano. Il suo incontro con Henry Stanley, che pronunciò la celebre frase il dottor Livingstone, suppongo, è entrato nella storia eredità e impatto. David Livingstone ha lasciato un segno profondo. Le sue relazioni dettagliate e i diari di viaggio sono preziosi documenti per la comprensione della geografia e della cultura africana del XIX secolo. La sua passione per l'esplorazione e la sua dedizione alla causa umanitaria continuano a ispirare generazioni di avventurieri e attivisti. La sua vita è un richiamo a perseguire i propri sogni, a esplorare il mondo e a fare la differenza nel destino dell'umanità. In conclusione, David Livingstone è molto più di un nome nella storia, è un faro di coraggio, curiosità e compassione che brilla ancora oggi. Grazie. 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 Grazie.